Ciao a tutti e benvenuti sulla mia pagina La Ruota della Natura. Chi non ha potuto assistere alla diretta di giovedì scorso, dedico questo breve video di introduzione allo sciamanesimo, in modo tale da sapere se è una pratica che può risuonare con noi stessi e se è una pratica che ci risulta interessante. Io ho scritto un libretto proprio di infarinatura generale, di linee guida iniziali, per chi vuole approcciarsi per la prima volta a questa bellissima pratica. Infatti nella copertina ho proprio messo un totem, perché? Perché lo sciamanesimo è una pratica che si svolge affidandoci alle nostre guide spirituali, ai nostri alleati, perché lo sciamanesimo è fondamentalmente una pratica di rivelazione diretta e questa rivelazione proviene esattamente dal mondo dello spirito e quindi dalle nostre guide. loro ci indicheranno la via migliore per ottenere una risposta, un consiglio su quello che noi cerchiamo, ma già attraversare il mondo spirituale, già addentrarsi nel mondo spirituale, è il primo passo per una guarigione interna, perché noi siamo fatti sia di corpo sia di spirito e quando troviamo l'incastro dialogano meglio e quindi raggiungiamo un benessere ulteriore. Infatti anche le malattie vengono affrontate in un determinato modo e idem gli sbalzi energetici nostri, perché il nostro spirito proviene dal mondo spirituale e l'abbiamo un po' allontanato incarnandoci in un corpo. Invece dobbiamo mantenere la consapevolezza di essere anche spirito e quindi di appartenere anche a un altro mondo, quello, il mondo spirituale dell'alta dimensione, dell'aldilà. E quel mondo lì custodisce tutte le nostre memorie, tutto il nostro scopo di questa esistenza, le risposte, custodisce tante cose, tanti consigli per vivere meglio questa vita, per vivere al meglio e soprattutto non perdendo il sentiero sacro, che perdendo invece la bussola poi non riusciamo più a capire bene perché siamo qua, chi siamo e quant'altro. Invece lo sciamanesimo porta proprio, riporta al centro e quindi ecco perché la ricerca del vero io come sottotitolo del libretto perché riporta a riscoprire davvero chi siamo. E la cosa meravigliosa di questa pratica è che in realtà essendo una pratica di rivelazione diretta non c'è nessun tramite, siamo solo noi che attraverso il viaggio sciamanico e quindi grazie al tamburo sciamanico che ci porta in uno stato alterato di coscienza riusciamo ad addentrarci davvero nel nostro spirito comprendendo che siamo tutti parte di un qualcosa, quindi che abbiamo tutte origine da qualcosa, che siamo tutti allo stesso livello, che la natura anche essa ci può dare un messaggio ed ecco perché si parla, parlo di forest betting sciamanico, ma siamo tutti connessi. Una volta che troviamo noi, troviamo tutti. Quindi la cosa meravigliosa dello sciamanesimo è proprio questo, essendo una pratica diretta di rivelazione possiamo liberarci di quelle corazze che ci dicono no, non chiedo perché, invece affidarsi, affidarci alle nostre guide. Troveremo il maestro spirituale, troveremo il nostro totem, ci ricaricheremo di energie, perché comunque trovare il nostro totem significa avere una ricarica ancora maggiore di energie, e spesso quando ci sentiamo stanchi, ci siamo stanchi da tanto, depressi, è proprio perché abbiamo perso il contatto con il nostro totem. Riscopriremo questi collegamenti e riusciremo a vedere oltre il buio, buio inteso proprio come oltre la materia, perché tutto è spirito, per gli sciamani tutto è spirito. Quindi, benvenuti in questo mondo, se è quello che vi sentite di esplorare e buon viaggio!